Un patto col mondo dell'informazione per indebolire e stroncare il fenomeno droga è l'idea lanciata dal procuratore della Repubblica di Campobasso Nicola D'Angelo nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la sede dell'Ordine dei Giornalisti. Presenti oltre a D'Angelo il sostituto Giuliano Schioppi, il dirigente della squadra mobile Raffaele Iasi, il capitano Vincenzo Di Buduo e il luogotenente Augusto Scoglio. Impressionanti i numeri diffusi a partire dal numero di iscritti al CERD, tutti ex assuntori di sostanze pesanti, oltre 1.300. Solo la punta di un iceberg, ha detto D'Angelo, che ha sottolineato come il Molise sia tra le principali regioni in Italia per assuntori di sostanze oppiacee. L'aspetto più inquietante tuttavia non sta solo nella vastità di un fenomeno che attecchisce soprattutto tra i minorenni, ma principalmente nella scarsissima percezione che si ha di questa vera e propria piaga sociale. Fenomeno invece conosciuto molto bene dalle mafie di ogni risma e foggia interessate al mercato del Molise. D'Angelo ha parlato di una vera e propria guerra. C'è una guerra in atto, c'è una guerra con i morti, con i morti fisici delle persone che muoiono per overdose, con la morte umana delle persone a cui unica finalità nella loro giornata è procurarsi la dose. E purtroppo il fatto non è nuovo, il fatto nuovo è la vastità di questo fenomeno, sono i numeri di questo fenomeno. Sono tantissimi i giovani che vivono in questa situazione e voi potete solo immaginare per ognuno di loro, madri, padri, sorelle, nonni, il disastro sociale che questa guerra sta comportando. Sono tanti, soffrono e chi ha una posizione come la mia che purtroppo vede molti aspetti negativi, perché in procura arrivano le cose negative, non le belle storie, si rende conto di come la situazione sia drammatica e stia peggiorando sempre di più. Quindi occorre un intervento forte e voi sicuramente siete quelli che più di altri possono farlo. Tutte le mafie sono interessate innanzitutto a guadagnare in modo facile. Il guadagno più semplice è quello che proviene dalla droga e il numero di tossicodipendenti in questa regione è un motivo di attrazione. Toccanti sono state le testimonianze riportate da D'Angelo relative ai colloqui con madri disperate che chiedono il mantenimento dei figli in carcere pur di essere curati e tenuti lontano dal consumo di stupefacenti. Un fenomeno che scatena oltre allo spaccio un'altra serie di reati come quelli di estorsione e furto. L'appello del procuratore al mondo dell'informazione è quello di fare fronte comune. È una missione pressoché impossibile ma qui da noi in Molise possiamo farcela, ha detto D'Angelo. Tra i soggetti da coinvolgere in questa che si annuncia una guerra senza quartiere c'è la scuola, luogo purtroppo toccato dal fenomeno. Controlli a tappeto e a sorpresa verranno effettuati negli istituti con l'ausilio di cani antidroga e quanto ha annunciato il dirigente Iasi. L'appello al mondo dell'informazione è stato raccolto in pieno, soprattutto con lo spirito di creare una sana cultura di contrasto ad una demoniaca cultura della morte da stroncare con ogni mezzo. Grazie.